La prima cosa che vi volevo dire è che l'altra settimana non è stata fatta la conferenza stampa non per scelta mia ma perché era stato municato e molti di voi non c'erano e quindi non abbiamo registrato il video visto che si è stata fatta dell'ironia sui giornali al di là che ho appreso dal giornale insomma io se perdevo a Torino venivo esonerato con i sacchetti e questo mi fa piacere perché siccome a me non era stato detto non mi risultava però voglio dire quindi solo per chiarire questo perché altrimenti se no si costruisce sempre una si cerca sempre di trovare un qualcosa dietro a ogni cosa che uno fa quando la realtà è molto più semplice e molto più immediata di quello che si possa pensare. Benché sia difficile pronosticare grossi stravolgimenti in una settimana neanche perché poi devi metterci i viaggi di andata e ritorno da Mosca che non saranno stati sicuramente comodissimi, grandi cambiamenti però insomma qualcosa della nuova gestione tecnica sicuramente verrà portata già alla nostra partita quantomeno da un punto di vista senz'altro di criteri generali fondamentali su idee da poi perseguire nel proseguo del mandato di Marco Calvani. Chiaramente è una squadra che ha vissuto nell'era sacchetti con delle caratteristiche determinate, è stata comunque costruita con giocatori che potessero avere quel tipo di aggressività in attacco in difesa che poi ha contraddistinto il gioco di Meo e di Sassari negli ultimi anni, quindi è difficile pensare che vengano qua a fare una partita di control game, sicuramente tireranno a tre punti, faranno corsa, cercheranno di spalmare la difesa su tutto il campo per metterci pressione e alzare il ritmo della partita. Noi dovremmo essere bravi a cercare come ha detto Simas di fare il ritmo della partita e questo non vuol dire mettersi lì a traccheggiare ma decidere noi quando è il caso di fare una corsa per fare un contropiede, decidere noi quando è il caso di stare a metà campo e non farlo decidere agli altri. Un po' come succede tutte le partite, chiaramente con maggiore attenzione nei confronti di una squadra che ha un potenziale offensivo notevole e che quindi può scavare dei parziali importanti qualunque sia il sistema di gioco che potranno eventualmente adottare in cambiamento anche nel corso di questa settimana. Speriamo che questo fattore S ci abbia un po' abbandonato e quindi ci potremo presentare per la prima volta nella stagione con tutti i giocatori che avevamo previsto di avere diciamo così in Aragosto con Sassari sostanzialmente. Ma sicuramente è una cosa che dà soddisfazione. La base di partenza quando uno si trova a dover affrontare la carriera da giocatore essendo o alle prime armi o comunque non esperto o come Nica che diciamo così anche per sue colpe non è mai stato incisivo tanto da meritarsi lo spazio che gli stiamo dando noi sinceramente. Esatto, sì 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 infatti io ho diviso i giovani da chi invece non si è saputo guadagnare fino a oggi uno spazio, non sono tanti ma uno è già un giocatore di palla a canestro cioè io voglio dire con massimo rispetto e il sorriso non considero la Quintana un giocatore di basket ancora professionista e in Metreveli sì ecco le richieste sono quasi uguali però uno si sta formando una sua dimensione l'altro la sua dimensione dovrebbe averla già trovata la realtà dei fatti è che dicevo quando inserisci i giocatori con queste caratteristiche di base ci deve essere qualcosa che loro hanno dentro da un punto di vista umano caratteriale e tecnico poi serve la fiducia dell'ambiente che lo circonda e in questo credo che noi come staff tecnico la società quindi che ha voluto impostare la squadra in un certo modo non possiamo vivere le emozioni negative del momento come delle sconfitte assolute perché sappiamo benissimo che si passa anche per dei percorsi travagliati qui la strada che ci siamo scelti è una strada comunque un percorso difficile è un percorso come ha sottolineato Peppe in un'intervista in settimana un percorso che determina anche una crescita all'interno del club sia da un punto di vista manageriale che da un punto di vista di staff tecnico fisioterapico medico e atletico è un passo in più che bisogna far tutti noi stiamo lavorando come dei pazzi quindi da questo punto di vista commetteremo i nostri errori perché comunque sia tutti siamo fallaci in quanto umani però sicuramente stiamo cercando di innalzare anche il livello qualitativo dell'offerta che diamo a questi a questi giovani perché sappiamo che da questo dipende tanto del loro rendimento alla domenica